buongiorno questa mattina andremo a leggere un pensiero di schopenhauer che si può interpretare come la confutazione più radicale di ogni forma di teofania o epifania con le quali i preti cercano di dimostrare che il mondo sia la manifestazione di una divinità buona un'opera perfetta creata con ogni scienza ogni potenza e con somma intelligenza questo passo che andrò a leggere di schopenhauer dice esattamente il contrario che il mondo esiste come frutto di un adattamento continuo guidato dalla volontà di esistere dalla volontà di sussistere quindi la vita può essere concepita in tanti modi differenti e noi non siamo autorizzati a dire ad esempio che il ciclo del carbonio sia l'unico modo con il quale può esistere ed essere concepita la vita solo perché la conosciamo così e non altrimenti la volontà di vivere e il conseguente adattamento delle forme è l'anima della vita e qui c'è un'anticipazione della marchismo e del darwinismo tema già discusso in una live con l'amico il demiurgo vate dunque schopenhauer il parelge paralipomena volume 2 egli dice un oggetto di meraviglia teleologica tutta particolare è l'inclinazione dell'eclittica poiché infatti senza di essa non non si avrebbe cambiamento delle stagioni bensì sulla terra regnerebbe una continua primavera ma i frutti non potrebbero maturare e crescere e in conseguenza la terra non potrebbe essere abitata dovunque fin vicino ai poli perciò i teologi della fisica vedono nell'obliquità dell'eclittica la più saggia delle disposizioni e i materialisti il più felice dei casi questa ammirazione che ha entusiasmato specialmente herder nelle idee per la filosofia della storia a vederla da vicino è sciocca infatti se come si è detto ci fosse l'eterna primavera il mondo vegetale certamente non avrebbe mancato di adattare a ciò la sua natura in modo tale cioè che gli fosse stato sufficiente un calore meno intenso ma in compenso continuo e uniforme per esistere allo stesso modo che la flora della preistoria oggi fossile si era adattata a una struttura assolutamente diversa del pianeta non importa quale fosse la causa di questa diversità e vi aveva prosperato magnificamente schopenhauer pareghe paralipomena volume 2 buona giornata